pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati oggi siamo davanti a questo splendido testo del vangelo secondo giovanni 1 35 42 l'inizio della missione di gesù con la chiamata dei suoi primi discepoli entriamo in questo testo tenendo conto che l'evangelista giovanni in particolare è di una ricchezza unica dietro potremmo dire ogni parola c'è un significato più profondo quindi cercheremo di cogliere alcuni aspetti preziosissimi anzitutto abbiamo giovanni che fissa lo sguardo su gesù che passa innanzitutto qui sta usando un termine greco particolare non usa il guardare generico ma emblepo lepo vuol dire guardare è in dentro quindi guardare in profondità ecco giovanni fissa lo sguardo su gesù vede in profondità cioè non è che sta passando 11 guarda antonio sta passando pasquale guarda la gennaro no ci sta rivelando qualcosa di profondo della verità del signore guarda con uno sguardo di uomo di dio e vede gesù che passa senti gesù uno sta passeggiando allegramente così facciamo quattro passi digeriamo e camminiamo c'è un significato profondo gesù passa dio cammina passa nelle nostre vite e passando vede chi ama a salvezza bussa alla porta del cuore dio passa dobbiamo cogliere il suo passaggio cogliere le occasioni che ci dà per questo i padri della chiesa sant'agostino diceva temo che il signore passi e io non lo riconosca quindi giovanni fissa in profondità e dice sui discepoli ecco l'agnello di dio è un termine che nell'immediato ti suona come ecco l'agnello quindi qualcuno umile mite però l'agnello nel mondo ebraico ti richiama subito una dimensione pasquale nell'uscita dall'egitto quando sacrificarono gli agnelli segnando con il sangue gli stipidi delle porte l'angelo della morte passava oltre non li toccava quindi l'agnello sacrificato che evitava la morte ma ancora di più c'è il servo del signore nel carme di isaia 53 che vi suggerisco di leggere è meraviglioso questo misterioso personaggio che con mitezza e umiltà e mansuetudine si fa carico di tutti i peccati del suo popolo e mentre viene maltrattato schernito percosso e flagellato lui sta portando il peccato di tutti per salvarli discepoli iniziano a seguire il signore e gesù si volta li fissa li vede vedete tutto questo gioco di sguardi il signore che li vede è la prima frase di gesù nel vangelo secondo giovanni una domanda brucia pelo potentissima che cosa cercate termine in greco zeteite che può indicare cercare volere ma potremmo tradurre anche con desiderare cosa cerchi cosa desideri è una domanda che va al cuore fondamentale ritorna altre due volte nel vangelo secondo giovanni capitolo 18 inizio della passione quando vanno ad arrestarlo gesù chiede chi cercate dopo la risurrezione alla maddalena che piange al sepolcro donna perché piangi chi cerchi chi cerchi che cosa cerchi fondamentale perché perché tutti nella vita siamo mossi da una ricerca tutti cerchiamo desideriamo qualcosa il problema è cosa cerco è una domanda che mi permette di riandare al cuore di tutto perché io magari mi sto perdendo cercando fesserie perché sto cercando solo il mio tornaconto perché cerco soltanto di appagarmi nei miei bisogni materiali nella mia ricerca di piacere cosa sto cercando cosa sto inseguendo sto ascoltando i desideri più profondi del mio cuore san bernardo diceva dal sorge del suo tramonto vedo uomini travolti dai vortici di questo mondo chi cerca ricchezze che i privilegi che soddisfazioni di popolarità che cerco io il desiderio più profondo che c'è nel cuore dell'uomo nella spiritualità anche dell'antico testamento è la ricerca di dio in fondo cosa cerca più di tutto il nostro cuore è dio stesso dietro alla ricerca di pace di felicità di pienezza dietro quella ricerca più profonda quell'insaziabilità dell'uomo perché l'uomo è fatto per l'infinito c'è la ricerca di lui della comunione di vita con lui è inquieto il nostro cuore finché non riposa in te cercare la volontà di dio significa dunque cercare una volontà amica benevola significa cercare la realizzazione della nostra vita anche nelle piccole scelte di ogni giorno cercarlo come principio e fine di ogni cosa un giorno san filippo neri incontra alcuni lavoratori gli chiese perché lavorassero e questi per stare bene per guadagnare per mantenere la famiglia per togliermi gli sfizi bravi dice san filippo neri però ricordatevi anche di lavorare per guadagnarvi il paradiso se no poi perderete il frutto principale delle vostre fatiche torniamo al testo la controdomanda dei discepoli molto interessante dicono a gesù dove dimori dove abiti senso immediato dove abiti qual è l'indirizzo di casa tua possiamo veniti a trovare cioè possiamo stare un po con te ma c'è qualcosa di molto più profondo il verbo greco che è tanto amato da giovanni che nel vangelo ritorna spessissimo è il verbo rimanere dimorare che in greco si dice menein ed è un verbo fondamentale cosa indica questa domanda dove dimori dove rimani significa dove poggi il tuo cuore dove poggi la tua vita dove trovi stabilità gli sta annunciando giovanni l'agnello di dio chi spende chi si sacrifica per gli altri chi si dona per gli altri così chiedono come fai cioè dove poggi il tuo cuore dove prende origine questa potenza d'amore vedete la risposta di gesù è venite vedete venite vedrete richiama a vivere un'esperienza per comprendere cosa ecco nel vangelo secondo giovanni tornerà questo verbo dove gesù ci dirà che lui dimora rimane nel padre e il padre in lui cioè unione profondissima con dio poggia il suo cuore nel padre nell'amore del dio e questo siamo chiamati anche noi a viverlo infatti in giovanni 15 4 dice rimanete in me e io in voi come tralci uniti alla vite questo rimanere indica una comunione continua un alimentare interiormente una relazione profonda una ricerca profonda un cercare di vivere in comunione con un cercare di seguire la sua parola ecco ognuno di noi si potrebbe domandare ma io dove abito vuol dire le mie azioni da dove scaturiscono cosa c'è davvero nel mio cuore ecco gesù gli propone di vivere un'esperienza perché c'è un'esperienza da fare cioè io posso sapere che dio amore che la sua parola è bellezza che c'è un cammino di crescita da fare posso sapere tante cose ma se non vivo l'esperienza di cristo a cominciare dall'esperienza come state facendo dell'ascolto della parola dell'incontro vivo nell'eucaristia della merghiera quotidiana se non vivo l'esperienza di dio beh la vita non cambia perché so tante cose cambia se quel mio sapere diventa a vivere se quel mio sapere mi spinge ad amare se quell'amore mi spinge a voler capire di più ma in un rapporto di relazione non sapere fino a se stesso so quattro cose sono a posto no è un sapere che deve informare la mia vita qui c'è un'esperienza da fare e quando vivi quell'esperienza ti rimane impressa giovanni scrive pure l'ora le quattro e pomeriggio cioè quando io faccio esperienza vera di dio mi rimane impressa qualcosa cambia nella mia vita questi discepoli non tornano come sono andati da ogni esperienza vera di dio cambia qualcosa nel mio cuore se il mio cuore non sta cambiando mi devo chiedere giusto una cosa ma sto davvero aprendo il cuore fino in fondo mi sto davvero lasciando cambiare sto cercando di mettermi in discussione in gioco oppure mi scivola tutto oppure sono lì giusto per fare presenza o perché di fondo non sto cercando davvero dio e la santità ma sto cercando altro di sentirmi bene di andare dove vanno gli amici o di far contento qualcuno che mi vede lì e andrea pieno di gioia vai annuncia pietro abbiamo trovato il messia vedete più cammino più incontro più faccio esperienza più nasce il desiderio che altri lo incontrino andrea non è che trova per caso pietro il verbo che viene utilizzato qui non significa incontrare per caso ma trovare ciò che uno cerca cioè ho desiderio che altri lo incontrino le vado a cercare gli vado a proporre questo incontro questo dover andare incontra gli altri non è un doverci andare perché devo ma nascerà dal cuore dalla gioia di aver incontrato il salvatore della mia vita e concludiamo pietro va da gesù e gesù fissando lo sguardo su di lui di nuovo vedete questo vedere profondo rivela pietro la sua identità più profonda tu sei pietro come a dire dall'incontro con cristo camminando con cristo scopro chi è dio ma scopro chi sono anche io scopro per cosa sono nato scopro la mia identità più profonda di figlio amato e scopro quella che è la mia missione scopro cosa sono chiamato a realizzare nella mia vita dove la vita un sogno meraviglioso che dio ha su ognuno di noi e dio ci ha equipaggiati per compiere ognuno la sua missione pace e bene